Festa dell'aria sabato-domenica all'aeroporto di Caiolo. La prima giornata prevede dalle 10 alle 17 i voli di prova aperti agli aspiranti allievi. Nelle due giornate si potranno seguire le evoluzioni di Dario Costa, primo pilota al mondo, ed effettuare un'acrobazia in formazione con un elicottero capace di volare su più di 50 diversi modelli di aeroplani. In agenda lo spettacolo del team paramotoristi audaci con loro parapendi a motore. Domenica pomeriggio alle 14.30 We Fly Team, l'unica pattuglia aerea al mondo in cui due dei tre piloti sono disabili. Sempre domenica pomeriggio dalle 15 alle 18 verrà proposto il volo vincolato in Mongolfiera assistiti da un pilota esperto. La due giorni è organizzata all'aeroclub di Sondrio.